Oggi sento il matrimonio più vicino, indossando il velo, e mi sento come una vera sposa. Cioè, potrei davvero sposarmi tra poche settimane. Ciao! Dopo i tarocchi dovrei solo pensare al matrimonio e essere positiva. Chiederò aiuto a Zahida per fare una sorpresina a Jacob. Beh, stai benissimo. Vorrei andare al Cat Café ad abbracciare i gatti. Non c'è niente di meglio per Zahida di un barco e gatti. È molto importante per me avere Zahida e Georgia coinvolte nell'organizzazione del matrimonio. Siamo diventate molto amiche lo stesso anno in cui ho incontrato Jacob, e quindi loro significano molto per me. Ho pensato a un servizio fotografico per il matrimonio. Indosserò delle lingerie. Sì. Vorrei che tu pensassi ai miei capelli e... Georgia ha il trucco. E alla fine vorrei trasporre la foto su una tela. Secondo me ne rimarrà entusiasta. Fantastico! È una sorpresa per Jacob. Penso che sia l'idea più bella mai sentita. Perché non dovrebbe avere un santuario per quel capolavoro di sua moglie? Jacob ha tutte le sue magliette da calcio incorniciate e appese. Quindi perché non dovrebbe volere uno dei suoi successi più belli sul muro davanti a lui? Ovviamente parlo di me. Penso che vorrei farlo super elegante, di classe, qualcosa che dica... Quella è la mia stupenda e fantastica mogliettina. Ti renderemo stupenda. Lascia fare a Meggie. Io e Holly ci conosciamo da tempo. L'ultima vacanza insieme è stata a Ibiza quattro o cinque anni fa. In quella vacanza abbiamo conosciuto tutti i nostri più cari amici. E ora abbiamo una cerchia davvero invidiabile. Il matrimonio significa molto per me. È il mio giorno speciale. Bene, ti chiamerò dopo. Ok, ti adoro. Anch'io. Ci sentiamo. Ciao. Sono riuscita a prenotare questa fantastica location per il servizio in lingerie sexy. Ho Zahida che mi pettina, Giorgia che mi trucca, il fotografo sta arrivando e Jacob non ha assolutamente idea di cosa stiamo facendo. Sono emozionata. Ti piacciono i capelli e il trucco, tesoro? Ma è favoloso. Giorgia e Zahida sono professioniste fantastiche. Affiderei loro la mia vita. Spero davvero che Jacob apprezzerà il regalo e gli sforzi che ho fatto. È una cosa un po' egocentrica. Ma dopo tutto, beh, parliamo di me. Oggi sento il matrimonio più vicino, indossando il velo, e mi sento come una vera sposa. Cioè, potrei davvero sposarmi tra poche settimane. Mi mancano i giorni in cui posavo davvero. Sono stati alcuni dei migliori momenti della mia vita e mi sono sempre sentita bella. Ma essere in grado di fare qualcosa di nuovo e sentirsi sicura nel proprio corpo è una vera vittoria. Team GC a vita! Olly è davvero fantastica. Io e G abbiamo lavorato insieme ed è stato il giorno più bello di sempre per farlo. e abbiamo fatto sembrare Olly ancora più bella. Oh, questi sono carini, inuziali e di classe. Non riesco proprio a credere che farà imprimere il suo culo, le tette e i capelli su una tela enorme che darà a Jacob come regalo. È un uomo molto fortunato. Sì, è un uomo molto fortunato. Grazie.